12 gol, 5 assist, un ruolo centrale negli schemi dell'audace Cerignola con i vantisci prima e con Giuseppe Raffaele poi. E il miglior Filippo D'Andrea della carriera risponde il diretto interessato, autore di una doppietta decisiva nel 3-0 del Monteresi sulla Virtus Francavilla. Lo dicono i gol che ho fatto, quindi diciamo di sì, dai. La dedico a tre ragazzi del gruppo, della squadra Capomaggio, Ruggero e Trezza, due che si sono operati e uno per problemi familiari non c'è qua con noi. Aveva fermato il suo contatore personale al 28 gennaio D'Andrea, allora fu addirittura tripletta davanti al pubblico amico in una rimonta per 4-2 sul Crotone che aveva spedito l'audace in piena zona playoff. Da quella partita è rimasto a secco per 11 incontri ai quali sommare l'assenza per squalifica contro il Monterosi. Nel mezzo il Cerignola ha cambiato guida tecnica e modulo di gioco con il 3-5-2 che ha preso il posto del 4-3-1-2 o del 4-3-2-1. Risultato, dopo un periodo di acclimatamento a nuovi dettami tattici, D'Andrea ha ripreso a parlare con il codice che conosce meglio di tutti. Il gol, ritornato a palesarsi nel tabellino dell'attaccante 26enne in una notte da ricordare, in cui il Cerignola è stato padrone della partita dall'inizio alla fine. Ce lo meritiamo, dopo le prestazioni che abbiamo fatto in quest'ultimo mese e mezzo sono contento ed è merito di questa squadra, di questo gruppo, che è un gruppo fantastico. Abbiamo fatto il nostro gioco come lo abbiamo fatto a Catania, a Potenza, un po' meno forse a Picerno, però noi ovunque andiamo cerchiamo di imporre il nostro gioco. E ora arriva il bello che nel caso del Cerignola coincide con il derby di domenica sera alle 20 allo Zaccheria di Foggia, di fronte ai rosso-neri di Cudini, oggi a più uno sull'audace e al decimo posto l'ultimo valido per partecipare ai play-off. A 11 mesi dalla clamorosa eliminazione dalla fase nazionale degli spareggi, con la rimonta del Foggia per 3-0 dopo il 4-1 dell'andata al Monterisi e con replay a quattro mesi di distanza dall'ultima partita tra le due squadre, vinta per 2-0 dai padroni di casa il 19 dicembre a Cerignola. Partita che questa volta vale un sequel nella post-season. D'Andrea, che tra i pro non aveva mai segnato così tanto, in carriera non ha mai fatto gol al Foggia in quattro incroci. Questa volta spera di spatare il mini tabù per rintuzzare il suo record di marcature in C e permettere al Cerignola di guardare oltre la 38esima giornata. È forse il destino che ci porta a giocare di nuovo in quello stadio, quindi speriamo di fare una grande partita e vediamo quello che viene.